Che lettura dà della nomina del prefetto di Catanzaro anche come prefetto di Vibo? Abbiamo espresso parere favorevole alla nomina del prefetto Ferrandino anche alla prefettura di Vibo Valencia perché conosciamo il prefetto di Catanzaro, una donna molto risoluta, capace, alla quale abbiamo mandato subito gli aguri per il lavoro proficuo che sicuramente farà la prefettura di Vibo Valencia come lo ha fatto e come sta continuando a farlo quella di Catanzaro. La cosa che ci preoccupa, che ci preoccupava, poi sono arrivate rassicurazioni in merito è che questo non fosse il preludio per il depotenziamento della prefettura di Vibo Valencia o addirittura la sua chiusura. Sappiamo che la prefettura è un segno tangibile della presenza del governo sul territorio ed è un territorio come Vibo Valencia che ha necessità della rappresentanza governativa, questo ci sembrava un fatto paradossale. Dalla Ferrandino sono arrivate rassicurazioni in merito, la sua nomina quasi sicuramente sarà temporanea perché sono in procinto le elezioni comunali a Vibo Valencia, quindi c'era la necessità di avere una persona che potesse gestire l'attuale situazione. Quindi tutte le polemiche che ci sono in atto sono fuori luogo in questo momento? Ma io penso proprio di sì, potrebbe darsi che per creare economie di scale, per razionalizzare i costi la Ferrandino rimanga alla guida della prefettura di Vibo Valencia ma questo non ci preoccupa perché ripeto conosciamo le sue capacità, conosciamo la risolutezza della persona e conosciamo anche le sue doti manageriali, quindi in sostanza potrebbe essere anche un valore aggiunto o sicuramente sarà un valore aggiunto per la prefettura di Vibo Valencia. L'importante è che non venga depotenziata perché c'è la necessità di un presidio dello Stato in un territorio che ha grande grande necessità. Soprattutto dal punto di vista della cronaca dell'illegalità diffusa. Il prefetto di Catanzaro su questo può dare un'ottima risposta? Sì, tanto è il lavoro che stiamo facendo anche sulla prefettura di Catanzaro insieme alla Ferrandino rispetto al lavoro, alla sicurezza sul lavoro, al caporalato. Quindi una persona capace che ha una visione della Calabria a 360 gradi. Io penso che la sua esperienza e la sua capacità portate sul territorio di Vibo Valencia siano, ripeto, un valore aggiunto per la provincia. Quindi la presenza dello Stato sarà forte e preponderante come lo è stata fino ad oggi col prefetto Gualtieri al quale abbiamo dato gli auguri per la sua tanto attesa pensione.